Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Soleil Sorge, ex fidanzati e flerte da Luca Onestini a Geremias Rodriguez Carlo Domingo, fidanzato Soleil a Laimo, da quando è uscita dalla casa mai visti Mila Suarez vs Soleil, cambi uomini come le mutande lei sbotta, rosichi per Alex Chi è Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Stasi? Soleil Stasi non ha mai voluto raccontare nel dettaglio la sua storia d'amore, né rivelare la sua identità, ma pare che si tratti di Carlo Domingo, imprenditore originario di Marsala, riservatissimo Punto la notizia riportata su altre testate. Il terrore più grande di un figlio è poter perdere un genitore, ha confessato la ex GF In una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha fatto luce su un capitolo buio del suo passato, lasciando di stucco tutti i fan che la seguono Punto Soleil confermata alla Pupa e il secchione 2022 Barbara D'Urso potrebbe sbucare Alex Belli, Soleil no. Poi Andrea Franco a Laimo ha aggiunto, stanno assieme da molto Qualcosa però potrebbe essere andato storto, dal momento che i paparazzi in queste ore avrebbero iniziato a parlare del fatto che l'ex GFina potrebbe essere tornata single Fin dall'inizio della sua avventura il grande fratello Vip Soleil Sorge ha raccontato di avere un fidanzato fuori dal reality che la aspettava Punto chissà come avrà reagito Alex Belli. Lei vuota il sacco, non sono mai stata Chissà come avrà reagito Alex Belli. Lei vuota il sacco, non sono mai stata È doveroso quindi capire come tutti coloro che erano presenti all'interno della casa hanno vissuto ed affrontato determinate situazioni Di poter chiarire la tua storia personale se è quella che ti fa stare bene e di liberarti di Alex, letto quotidiano Soleil all'interno della casa si è fatta conoscere ma si è anche complicata la vita con l'amicizia speciale con Alex Belli A parlare del fatidico fidanzato di Soleil Sorge è stato Raffaello Tonnon che a mattino 5 ha confermato la sua esistenza Punto la ex GFina non appena è uscita dalla casa del grande fratello Vip 6 ha detto pubblicamente qual è il vero rapporto che la lega ad Alex Belli La loro amicizia intima e molto speciale è stata uno dei temi più discussi di questa lunga edizione del grande fratello Vip 6 Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video